Buongiorno a Federico Sollazzo, buongiorno Giancarlo, riprendiamo una conversazione con il filosofo Federico Sollazzo intorno alle nuove forme del potere, intorno alla filosofia politica. Riprendo proprio da una tua domanda dall'intervento, quando una crisi non è un'opportunità, la coincidenza con ciò che si vorrebbe superare, che si trova online. Siamo oggi in una nuova fase di eterodeterminazione dell'individualità in cui non si dà più lo scarto tra questa e il sistema che la contiene. Puoi precisare qualcosa di questo? È un'ipotesi? È una sovvio dalla parola crisi, come hai tu ricordato, ovviamente non declinata in maniera particolare in chiave economica, come oggi siamo abituati a sentire e neanche in senso generale, in maniera culturale, ma io direi di più in maniera coscienziale. Perché quello che mi chiedo è se il problema, come accennavi nella domanda, dell'auto o eterodeterminazione della vita degli individui, problema che a mio parere si radica appunto nella coscienza degli individui, se questo problema basta semplicemente porlo, o meglio è ancora sufficiente porlo nei termini in cui è stato posto finora, ovvero considerando il fatto che ci troviamo in uno scenario sociale che ci condiziona, c'è chi ci manipola, poteri economici e poteri politici che ci indirizzano in una certa direzione e così via. Seguendo questo filo di ragionamento il problema è che abbiamo a che fare con la dimensione della esteriorità, che ovviamente c'entra anche questo in questo tipo di problema, ma non molto con quella della coscienza e quindi anche il soggetto che determina questa eterodeterminazione tendiamo a identificarlo con un soggetto personale, allora è il governo o questo o quel politico o questa o quella corporation che perseguendo i loro interessi in qualche maniera ci manipolano con informazioni false, indirizzandoci verso opinioni studiate a tavolino e così via. Io non nego affatto che ci sia anche questo problema, è evidente che ci sia, ma il problema fondamentale secondo me che sta alla base di questo è un problema di tipo coscienziale che fa in modo di non avvedersi, non essere avveduti del fatto di essere sottoposti ad un tipo di eterodeterminazione che ormai è impersonale, questo è il punto forse al quale ti riferivi in quella breve citazione, cioè che questa eterodeterminazione è ormai impersonale, nel senso che c'è questo vettore che io congiungendomi a quello che è stato detto nel secolo scorso, ovviamente non è che che è un mio termine originale, concordo nel definire razionalità strumentale, quindi la ricerca dell'efficienza, la ricerca della misurabilità, calcolabilità, funzionalità e così via, e questo è il paradigma impersonale che agisce sulle coscienze degli individui, ecco perché non si può dire che è questo o quel politico, questo o quel governo, questa o quella corporation che ci manipolano, ma è un sistema ormai che vive di vita propria e questo determina anche un problema maggiore probabilmente di quello identificato in precedenza per eventualmente trovare una soluzione, per eventualmente uscirne, perché se noi fissiamo il fatto che la mia libertà personale è influenzata e manipolata dal politico X, allora il problema sarà semplicemente criticare, contestare, allontanarsi dal politico X. ma nel momento in cui ciò che ci determina è uno scenario impersonale, non riferibile più ad un soggetto preciso e anzi quei soggetti che abitualmente siamo considerati, siamo abituati a considerare come i soggetti che determinano questa etrodeterminazione, in realtà sono anche essi funzionari di questo scenario, questo è un passaggio a mio parere chiaro, ovvero sia il politico, il grande politico, il grande capo di Stato, la corporation stessa, il grande leader religioso, anche loro sono funzionari di questo ordine più grande determinato dalla razionalità strumentale, perché se vogliono stare in questo mondo e incidere in questo mondo devono giocare secondo le regole predisposte dalla razionalità strumentale, allora non possiamo neanche dire che siano loro appunto il soggetto contro o semplicemente verso cui rivolgerci. Il problema a mio parere è che non c'è un riconoscimento del fatto che il soggetto con cui ci teniamo a che fare è un soggetto impersonale, ecco perché quella che tu citavi in apertura secondo me, per come l'ho scritta io, è una semplice constatazione, cioè la constatazione del fatto che non essendoci un riconoscimento di cosa agisce sulla nostra potenziale autodeterminazione trasformandola in eterodeterminazione, non essendoci un riconoscimento di questo, non ci sono più neanche i margini per allontanarsi da questa problematica e quindi questa eterodeterminazione viene semplicemente vissuta come se fosse un qualcosa di spontaneo, ecco perché c'è una riga in questo articolo che tu hai avuto la gentilezza di citare, nella quale scrivo l'eterodirezione scompare sotto la forma di uno spontaneo, tra virgolette spontaneo modo di vivere, ecco perché le alternative o meglio ancora l'alterità, l'alterità non è più presente non essendo presente una chiara identificazione di cosa è quel vettore, quella forza che ci determina. Sì, possiamo dire però che se c'è una eterodirezione e un'autodirezione o eterodeterminazione e anche perché qualcosa di questa direzione non è precisata, un mio dubbio è che anche la somma, cioè sembrerebbe che non ci sia autodeterminazione, ma direi oggi che la somma dell'eterodirezione e dell'autodirezione non dà la direzione, infatti prima, ma poi hai aggiunto altre cose, però stavo per chiederti se possiamo rispondere anche in altro modo alla questione di comunque chi dia la direzione al pianeta oggi, in questo oggi del soggetto impersonale, sì? Sì, chi dà la direzione per rispondere con una battuta se la dà da sé, nel senso che appunto si è venuto a creare questo sistema impersonale che vive di vita propria, io sempre in questo articolo faccio un esempio che poi mi propongo di approfondire nelle prossime occasioni, nei prossimi articoli, laddove secondo me si trova una perfetta applicazione di quella che Hegel nella fenomenologia ha descritto come la dialettica servo padrone, nel rapporto che è intercorso tra il capitale e la tecnica, quindi possiamo anche dire capitalismo e razionalità tecnologica, perché c'è stato un momento, possiamo dire in termini generali 800 e 900, nel quale il padrone in termini hegeliani era il capitale, ma per svolgere le sue mansioni di padrone per dominare il mondo si avvaleva di uno schiavo che era la tecnica, ovviamente, se nonché la tecnica poi, proprio seguendo esattamente la dialettica hegeliana, la tecnica poi a sua volta ha preso il sopravvento sul capitale stesso, basta vedere per esempio che oggi la trasformazione, possiamo anche dire in questi termini, la trasformazione dell'economia in finanza, basta vedere che oggi il capitale se non è supportato da una adeguata tecnologia non si muove, non fa le sue operazioni, non può incidere sul mondo, il capitale incide sul mondo quando per esempio avvengono transazioni, non lo so, da una banca posta in un certo punto del mondo a un'altra posta in un altro punto del mondo, transazioni rilevanti, ma queste transazioni avvengono grazie alla tecnologia e quindi avvengono nel modo, nei tempi, nella forma che la tecnologia impone al capitale stesso e quindi la tecnologia è diventata il nuovo padrone seguendo questa figura della dialettica hegeliana. Ecco, ma nel momento in cui diventa il nuovo padrone la tecnologia ovviamente diffonde il suo tipo di razionalità, perché non è vero che la tecnologia è un qualcosa di neutrale, la tecnologia ha il suo tipo di razionalità come hanno ben mostrato ad esempio gli autori della prima scuola di Francoforte e per altri versi, in altri modi Pasolini qui in Italia e quindi diffonde il suo tipo di razionalità che possiamo definire in sintesi strumentale ed ecco che ci troviamo in un mondo in cui ci sono ovviamente soggetti che hanno più potere di altri, perché non so, il Presidente della Casa Bianca o il Presidente della Federazione Russa o il Papa o il Presidente di una grande multinazionale ovviamente sono soggetti che incidono sul mondo in maniera più profonda rispetto a quanto fa il cosiddetto uomo comune, quindi c'è sempre una gerarchizzazione del potere, una dimensione verticale del potere. Però l'ultimo gradino di questa verticalità è occupata da questa immagine di un qualcosa di impersonale che è un tipo di razionalità che ormai vive di vita propria, vive di vita propria e io dicevo da una parte è impersonale quindi non possiamo dire che coincide con questo o quel politico ad esempio e dall'altra parte però ha dei rappresentanti ben precisi che la diffondono continuamente nel mondo e sono gli oggetti tecnologici, anche per esempio i portatili che adesso stiamo usando per questa nostra conversazione, noi ora siamo costretti ad adeguarci a quello che il portatile pretende per fare in modo che la conversazione avvenga e vada in onda. Questo non significa che necessariamente ne assorbiamo la razionalità e la replichiamo e viviamo necessariamente in conformità con i suoi principi. Però c'è bisogno di una personalità o di una coscienza fortemente critica per stare a contatto 24 ore su 24 con qualcosa che ti ripete sempre un certo tipo di lezione e nonostante questo non esserne influenzato. Nella maggior parte dei casi ne veniamo influenzati ovviamente, chi misura maggiore e chi misura minore. Ecco che assorbiamo questo tipo di razionalità strumentale e poi spesso inconsapevolmente la replichiamo. Quindi dove sta il soggetto che la riproduce? Nonostante la stratificazione del potere che continua ad esserci a cui ludevo prima, ma fondamentalmente sta dentro di noi. È impersonale nel senso che non c'è la figura del sovrano, ormai con buona pace di Hobbes non c'è la figura del sovrano, però c'è forse una frammentazione di questa figura all'interno di ogni singola persona che consapevolmente o meno ripete i criteri di questo tipo di razionalità strumentale. Poi noi andiamo in cerca dove sta e in che punto della società, in quale palazzo della società, a che altezza della società, ma in realtà sta dentro di noi e siamo noi stessi che le diamo costantemente vita e così si trasforma anche in una struttura di tipo sistemico. Sì, e prima parlando della gerarchizzazione del potere, all'ultimo gradino, dove una volta si metteva Dio, hai messo proprio la razionalità strumentale impersonale. Ecco, io mi chiedo, ancora prima della questione se la critica della razionalità strumentale metta in discussione anche il capitale, operando quell'inversione che dicevi con l'immagine del capitale che è diventato servo della tecnica. Però mi chiedo, che cosa resta se nell'ultimo gradino c'è questa cosa impersonale e non più Dio della critica della teologia politica? Cioè, le teorie del potere oggi e compresa anche la tua elaborazione. se sono al di là della teologia politica, se non fanno più riferimento al Dio della politica e della gerarchia, perché la gerarchia… Sono tornato in linea, c'è stata un'altra pausa. Sì, sì, era arrivato a cosa resta, sì? Cosa resta, cioè, come posizioni la tua elaborazione rispetto alla critica della teologia politica? Dunque, la critica della teologia politica… Allora, mi vengono in mente due considerazioni. Una riguarda l'idea stessa di Telos, ne abbiamo già parlato in un'altra occasione, sempre qui su Liberi.tv, passando attraverso Taubes, ma soprattutto Agamben e in quell'occasione, se qualcuno ha la curiosità e la pazienza di andarsi a rivedere il video che sta nel vostro archivio, in quell'occasione alludevo al fatto che una possibile via di fuga potrebbe essere quella di fare in modo che il Telos sia determinato da ogni singolo soggetto, da ogni singola persona e semplicemente nel confronto con il prossimo poi potrebbe venire fuori una forma di equilibrio non determinata dal fatto che sia l'economia, la tecnologia o un potere politico a dire qual è il Telos nelle nostre vite. Ma soprattutto in questa sede, invece, rispondendo forse più precisamente alla tua domanda, quello che mi viene in mente è che se noi ragioniamo nei termini della teologia politica che in una certa misura ancora esistono ovviamente nella nostra società, non è che la sto contestando perché significerebbe eliminare il lavoro di importanti autori che invece, a mio parere, danno un contributo, diversi dei quali italiani, danno un contributo molto importante a questo argomento. Però ragionare nei termini della teologia politica significa ragionare, o quantomeno correre questo rischio, nei termini ancora di una accettazione fideistica degli individui dell'apparato in cui si trovano, che poi sia un'accettazione fideistica dell'economia e quindi il mercato viene giudicato una divinità, o l'accettazione fideistica della razionalità tecnologica, o l'accettazione fideistica di quello che dice questo o quel leader, questo o quel guru. In tutti i casi ci troviamo sempre a che fare con una questione di fede. Mentre a me sembra oggi che, nonostante questo discorso sulla accettazione fideistica sia molto vivo, ma il nucleo dell'accettazione di oggi di questa forma di potere impersonale non è una fede, ecco perché non si può semplicemente sostituire Dio con il mercato, Dio con la tecnologia e così via. Non è più una fede, ma è una assofazione, questo mi sembra un passaggio chiave. Cioè le persone non hanno fiducia nei confronti del mercato, fiducia nei confronti della tecnologia, fiducia nei confronti di un leader politico, di un guru, ma sono assofatti a quella entità. Sono assofatti a quella entità. E quindi laddove c'è assofazione non credo che ci sia il margine, se non molto ristretto, più che altro formale e non sostanziale, per parlare ancora di teologia politica. C'è un sistema di conformistica assofazione nella quale non c'è un'accettazione esaltata di qualcuno o di qualcosa, ma c'è semplicemente lasciarsi andare a quello che è l'ordine delle cose. Ma l'ordine delle cose di oggi si chiama razionalità strumentale. Sì, io mi chiedevo, diciamo, laddove la formula che i concetti della filosofia politica sono quelli della teologia secolarizzata, mi chiedevo se, al di là della distinzione anche fatta con i termini assofazione, la teologia politica non costituisca quel materiale da costruzione viziato di cui hai parlato tu. Ah, certo. In quel senso, io ritengo che non esista teologia politica nella struttura. Sì, in quel senso lo è, perché tutto il discorso della teologia politica oggi mi sembra che venga giocato in chiave, per semplificare, rivoluzionaria, rivoluzionaria, ribellistica, come un possibile vettore per scardinare il sistema esistente, se non che se quello che ho detto prima è giusto, più noi continuiamo a concentrarci su un tipo di adesione all'esistente che è di tipo fideistico e non per ossofazione, più siamo lontani da quello che è invece la condizione effettiva che viviamo e quindi anche da una possibile soluzione. Ecco perché, come accenno verso la fine dell'articolo, tante soluzioni, tante proposte, ciascuna a suo modo affascinante, sono state fatte per trovare una possibile soluzione al problema. Mi riferivo, per esempio, da 2.500 anni fa, da Socrate, insomma, che parlava del dialogo con il proprio demone, Foucault poi riprende queste ore nei termini della cura di sé, l'illuminismo nei termini dell'onestà della prova di fronte al tribunale della propria ragione, ovviamente ci riferiamo a Kant e così via. Ma il problema è che tutte queste tematizzazioni, mi sembra che abbiano costituito un momento di progresso nel contesto e nel momento in cui sono state elaborate. Però poi a loro volta, con un lasso di tempo peraltro via via sempre più ristretto e quindi con una dinamica sempre più veloce, sono state assorbite dall'ordine di cose esistente, sono diventate, come citavi tu in precedenza, sono diventate materiali da costruzione viziato, perché anche esse poi contengono la struttura essenziale, forse potremmo dire ontologica, non è azzardato dire ontologica, dell'esistente e quindi non sono più elementi che possono andare oltre l'esistente se ne contengono l'ontologia. E questo mi sembra che sia anche il destino della teologia politica che è tra quelle che citavo in precedenza la posizione più avanzata in termini cronologici fra le varie tematizzazioni che sono state fatte del come uscire da quella che in questo articolo chiamo crisi e che appunto non è tanto di tipo economico quanto di tipo coscienziale, però a sua volta anche questa tematizzazione viene poi assorbita all'interno dell'ordine di cose esistente e diventa una parte di questo, ecco perché sempre in questo articolo poi nella conclusione, che poi è tutta da elaborare di più ovviamente, nella conclusione mi riferisco al potere del negativo. Sì, io volevo precisare proprio questo, perché tu parli rispetto alle risposte affermative appunto di praticare una negatività, parli del movimento di sottrazione, della dinamica di rifiuto del paradigma affermativo vigente, sino a questo, hai dato la formula che si giungi alla consapevole indifferenza, intanto una parentesi, non siamo però lontani dal preferisco dei nord di Bartleby a cui fa sempre riferimento Agamben e anche un po' alla sua nozione di inoperosità rispetto alla macchina, diciamo, alla macchina del potere e quindi se puoi precisare qualcosa rispetto a questa, so come chiamarla, dinamica del negativo insomma, sì? Sì, io mi riferivo alla dinamica del negativo, come la descrivi te, perché tutti gli esempi che facevo prima velocemente da Socrate a Foucault all'illuminismo, anche al romanticismo, anche alla scuola di Francoforte, sono tutte quante risposte in positivo, cioè ho questo problema, come lo risolvo, lo risolvo facendo così, ora sto sintetizzando in maniera veramente indegna, ma sono tutte quante proposte in maniera positiva, in maniera affermativa, ma il problema è che l'affermativo si presta poi per sua stessa natura ad essere assorbito all'interno di un certo tipo di sistema. Mentre il rifiuto conserva la capacità di non essere assorbito, ma in questo caso il problema con cui abbiamo a che fare è quello della creazione di figure della differenza che vengono propagandate come tali, ma che sono semplicemente a loro volta figure dell'ordine vigente, anche questo non è che l'abbia scoperto io, Pasolini ad esempio parlava già in lettere luterane e scritti corsari, parlava già della costruzione di figure e personaggi predeterminati e predefiniti, di maschere predeterminate che poi non dobbiamo fare altro che indossare, io qui in due righe di questo articolo ad esempio scrivo si pensi al cliché del ribello e del rivoluzionario ridotti a personaggi accessoriati di tutto, dall'abbigliamento al modo di portare barbe e capelli, dal linguaggio ai consumi, dai divertimenti alle idee da contestazione e conversazione. Quindi mi sembra che l'opzione del negativo contenga la possibilità di una sottrazione perenne all'affermativo e quindi all'ordine vigente, se però stiamo attenti a non cadere nella strutturazione affermativa del negativo, cioè nel fatto che affermiamo positivamente cosa è il negativo, allora in quel caso ci ritroviamo ancora una volta all'interno dell'ambito del positivo e dell'affermativo con tutti i problemi appena descritti. E perché arrivo come posizione finale poi a definire questa che chiamo consapevole indifferenza? Consapevole perché dobbiamo sapere che tipo di mondo abitiamo, non possiamo mettere a punto nessuna strategia di sottrazione dall'esistente se non siamo consapevoli di quale sia l'esistente che abitiamo. Indifferenza perché? Perché nel momento in cui dobbiamo divenirne consapevoli vi entriamo a contatto, ovviamente, e nel momento in cui vi entriamo a contatto però c'è il rischio e in parte questo avviene sempre, di esserne completamente informati poi, cioè di andare alla deriva seguendo quello che è l'ordine affermativo esistente. E allora con la parola indifferenza, che probabilmente va limata meglio, con la parola indifferenza volevo indicare un possibile scudo di fronte al fatto che siamo costretti a prendere atto di quello che è il problema dell'esistente e quindi le figure affermative con le quali ci troviamo ad avere a che fare, compresa anche la definizione affermativa del negativo, ma per schermarci dal problema potenziale di essere travolti all'interno di questo turbine di affermatività probabilmente l'indifferenza è una possibile via d'uscita. Sì, un'ultima domanda Federico, che va in un'altra direzione nel confronto con altri ambiti. E se questo scarto tra etterodeterminazione e individualità fosse incommensurabile? La società adesso ce lo dà addirittura come tolto, non c'è quasi più questo scarto, questa individualità esegue i parametri dell'eterodeterminazione spontaneamente, hai scritto, no? E se arrivasse al punto che lo scarto autentico sarebbe contro la pretesa dell'eterodeterminazione dell'individualità. Ed ecco la questione con la psicanalisi, anzi diciamo che più con la psicanalisi per via di come è conformata la società oggi, l'inconscio non sarebbe un'introduzione a questa scienza dello scarto, a questa direzione intellettuale che non è né uomo né etero, che non è né delle oligarchie e neanche del popolo, ma perché ciascuno è interpellato da quello che si presta ad essere definito nella maniera più indeterminata possibile possa svolgere questo ruolo e quindi sicuramente anche l'inconscio. Però questo non significa che si debba rimanere nella generalizzazione, nella generalità del ragionamento. Significa che questo qualcosa che cerchiamo di nominare, che per ragionare siamo costretti a nominare, nel momento in cui lo definiamo in qualche modo, diventa afferrabile, come tu dicevi all'inizio della conversazione, da il potere vigente che io definisco in questo caso come la razionalità strumentale. Ma questo non significa che allora non se ne possa e non se ne debba parlare e il problema rimane semplicemente non posto, ma che ogni tempo storico, che poi bisogna vedere se si può definire in termini di generazioni o addirittura infragenerazionale, data la velocità dei mutamenti sociali oggigiorno, ad ogni modo ogni tempo storico deve ricalibrare la propria posizione di fronte a questa questione che è quella della sottrazione della negatività, perché nel momento in cui ne diamo una definizione lo rendiamo disponibile all'assorbimento. Questo però non significa che non si debba darne una definizione, ma che questo movimento di sottrazione è perenne, e così magari continuiamo anche a espanderne margini potenzialmente all'infinito, perché ne diamo una definizione, poi quella definizione non è più utilizzabile perché diventa affermativa, allora dobbiamo darne un'altra e così via e così via. Sempre ovviamente con la prospettiva di darne una definizione negativa, sottraente, quindi non affermativa. Forse oggi questo può essere giocato con la parola inconscio anche. Bene, Federico, io ti ringrazio, ti ringrazio anche a nome di Liberi TV. Grazie a voi. Spero, e quindi ci diamo l'appuntamento a qualche altro incontro lungo la tua elaborazione. A molto volentieri, grazie. Grazie a te Federico, alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.